Ultra Shiny Box Sun and Moon 8B ragazzi, questo è spettacolare perché sapete già cosa si può trovare all'interno di questo box perché ho già pubblicato un altro box quindi andiamo subito ad aprire il box senza perdere cinciance, senza fare le intro, senza fare niente perché tanto vogliamo subito vedere cosa troviamo all'interno di questo box allora, come detto nel video precedente, nei commenti mi avete scritto in tantissimi di aprire subito un altro box e quindi siamo qui appunto per aprire un altro box allora, eccolo qua, pellicola tolta, ammiriamo un'altra volta l'artwork di questo box perché magari venite qui per la prima volta su questo canale quindi l'altro video non l'avete visto e allora vi ho fatto rivedere un'altra volta il cartoncino, allora, apriamo tutto quanto, quest'oggi ragazzi avremo molto più spazio sulla scrivania perché manca un box quindi questo qua lo potrò mettere qua giù e avrò lo spazio qua davanti, però io voglio fare così, estraiamo tutti e 10 pack questa la richiudiamo, perché voglio ottimizzare proprio lo spazio al massimo, facciamo così e questi li mettiamo qua davanti, perfetto, così abbiamo i pacchetti qui e le carte che apro le mettiamo qua quindi a posto siamo pronti per partire, lasciate un bel like subito per avere un incipit molto più farendero e quindi andiamo con il primo pack di questo box, allora, questa volta ho un po' più di memoria quindi potrei fare il video molto più con calma, però non c'ho voglia perché voglio andare veloce come sempre quindi andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno di questo primo pack e abbiamo Trainers, Exeggutor di Alola, Trainers, Fennecain, non è vero, è l'evoluzione Braxton, Poipol, Bulbasaur, spettacolo, l'evoluzione di Rowlet subito shiny ragazzi, guardate che spettacolo tanta roba e poi abbiamo, attenzione, Zygard, 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 Ray Go, e per finire, Golisopod GX che già avevo comunque, primo pack, subito una bellissima shiny ragazzi e un Golisopod GX che lasciamo qua davanti mettiamo qui, sperando che non caschi allora lì ci sarà la mia faccia, quindi coprirà tutto, però Golisopod si dovrebbe vedere e poi qui abbiamo subito questo, come cacchio si chiama l'evoluzione di Rowlet Rowlet, pa, mh, deten, segni di ten porca miseria c'è vuoto, e l'evoluzione è deciduai decidueie, cazzo, oh ho detto cazzo, non mi ricordo come cacchio si chiama, porca miseria oh, no adesso lo cerco subito al volo, tanto faccio in tempo ci metto due secondi, allora, poi magari farò un bel taglio, però non posso non mettere Rowlet, come lo scrivo Rowlet, così Rowlet Rowlet no, ho scritto male non si scrive così lo so ragazzi, che non mi ricordo l'evoluzione, come cacchio si chiama? Dartrix ma vaffancina va, non mi ricordavo no Dartrix, è difficile, non mi ricordo vabbè comunque scusate questa piccola parentesi andiamo subito con il secondo pack, quindi Dartrix, shiny, spettacolare 160 redi, 150 adesso andiamo però a vedere il secondo pack sperando che non mi ricordo allora, pacchetto che buttiamo trick a trick che trichiamo e andiamo subito con attenzione, subito una bella trainers Rotom trainers spaciri su energy porca miseria non ce posso credere, è una cosa impossibile Godzlord, shiny, GX la stessa fottuta shiny che avevo trovato nell'altro box non è possibile trovare una doppiona così e poi abbiamo, attenzione buzzwall feromosa e per finire una trainer segmentata qui fragmentata non ce posso credere, sono riuscito a trovare la shiny doppiona su due box è una cosa impossibile, è impossibile è impossibile adesso io spacco tutto ma non si può trovare la shiny doppiona perché? ma che ho fatto? che male, perché? terzo pack e vediamo un po' cosa troviamo che già abbiamo cominciato malissimo abbiamo cominciato super male non ce l'unica cosa che può salvare sto box adesso è trovare subito o una gold o attenzione ho sfasciato tutto o una gold oppure non lo so cioè ho trovato una doppiona shiny è impossibile boh, vabbè comunque benasau trainers riolu vulpix manafi zygard carino poi abbiamo attenzione greninja gx e per finire cartana fragmentata abbiamo trovato un'altra gx che mettiamo subito qua siamo già a due gx una shiny e una super ultra shiny e adesso andiamo a vedere il quarto pack che cosa ci riserva abbiamo trik a tre e andiamo con quel gazzlord gx io non ci posso credere che ho trovato il gazzlord gx cioè è una cosa impossibile vabbè comunque trainers se ci avete un'altra scena a scambiare comunque spettacolo marovac di alola guardate spettacolo poi abbiamo trainers diglet slugma cosmog attenzione downwings necrozma delfox perché dico delfox poi abbiamo attenzione silvalli gx e per finire fennekin fragmentato allora voi dovete sapere che adesso ho trovato quel gazzlord gx subito così e adesso io non so se riesco a sopportare tutto il video così sapendo di aver trovato una doppiona su due box è una cosa cioè non capisco non capisco perché è successo proprio a me comunque quinto pack no quinto pack come deve essere quinto se quarto quinto pack eh ah trovo quel gazzlord non ci ho capito più un gazzlord allora ho trovato quel gazzlord non ci ho trovato più un gazzlord ah ah allora mimikyu trainers rotom fennekin swablu gabite sulchi 3 blaziken boom guard war gx mi mancava spettacolo e per finire boom tre minutes che ne ci fesciamo un bel nulla 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 io direi di mettere subito questo guard war gx al posto di gollisopod perché tanto già ce l'avevo ecco fatto si vedrà non si vedrà non si sa e andiamo con questo sesto pack speriamo di trovare almeno una shiny buona perché se no ultra shiny è andata di merda proprio letteralmente di merda trick a 3 e andiamo non ci posso credere che ho trovato una cosa impossibile vabbè comunque trainers trainers rotom inkai gabite gibble sbagliato whooper oh attenzione vulpix di alola shiny spettacolare vulpix di alola zekro dustman e attenzione lycarrock gx che già avevo forse non so sicuro mettiamo il lycarrock qua facciamo spazietto spazietto facciamo spazio e mettiamo subito vulpix di alola shiny in the sleeve attenzione guardate spettacolo l'unica cosa positiva è che ancora non ho trovato una shiny doppiana penso si trova pure la shiny doppiana è proprio sfigato ragazzi è proprio sfigato e andiamo con il pack numero 7 e vediamo cosa troviamo no io non ce la posso dire ma pensa si apre un terzo box e trovo un altro gazzo guarda solo a pensare c'è già mi sta balla all'occhio qui già mi sta venendo il ticca nervoso non ce la posso dire non mi è successo veramente ma non mi è successo trainers megiera trainers energia sablie eye ivy gazlord adesso io gazlord non lo voglio più vede fino alla fine dell'apertura del box magnetzone attenzione downwinks necrozma gx che mi mancava e poi boom rals fragmentato ragazzi guardate un rals innamorato che carino e adesso andiamo a mettere questo ce l'ho io mettere nella slitta perché ragazzi mi mancava allora attenzione due secondi tre secondi ho finito e lo mettiamo davanti al ryan rock l'ykan rock si vede non si vede ma si vede andiamo con l'ottavo perché ragazzi voglio trovare la shiny subito una bella shiny e vediamo cosa troviamo trick a tre e andiamo con comunque no io dopo vabbè o basta non ce l'ho più pensato ma l'amalare trainers rotom sni sni non l'avevo mai trovato sni dance parts altaria upa attenzione marsciato gx e per finire trainer molto male molto male marsciato andiamo con lì pack number nine ragazzi number nine deve portarci fortuna se no non ci siamo affatto per nulla al mondo trick a tre e andiamo con attenzione questo deve essere molto più fortunato altrimenti va male energia quagsire ho sentito un rumore di citofono trainers rals torcic kirlia attenzione di nuovo questa qui prisma e abbiamo attenzione la gx che tutti volevano rush run gx non è vero non la voleva nessuno e per finire sboom niente da fare niente da fare e allora mettiamo il rush run che già c'è con 50.000 copie qua dietro a silvalli e va a fancina ultimo pack ragazzi questo box è stato andato non lo so guarda non lo voglio non lo voglio esprimere che è meglio è andato molto molto malissimo buzzina che buttiamo però gx in ogni pack ragazzi gx in ogni pack trainers solo che quando già ce l'hai la gx non è più la stessa cosa non c'è più lo stesso entusiasmo a trovarla comunque dino execute magremite dianzi marsciato sboom tabula lgx non c'è sta e per finire sboom dactory dalol ha fragmentato allora ragazzi questo box è andato male molto male perché potete sapere perché è andato male non perché ho trovato tabula lgx che comunque è una buona carta ragazzi perché è una delle più costose del box quindi alla fine ne vendi una due tre quattro più o meno rientri un pochetto però perché ho trovato ragazzi l'unica ultra shiny che già avevo ho aperto un box prima di questo dal secondo ho ritrovato questa cioè ragazzi qua ci vuole un like di consolazione ragazzi e soprattutto un like con un commento se volete che io apra un altro box ancora fatemelo sapere qua sotto nei commenti quindi per oggi è tutto like, subscribe, share tutto quello che volete se al prossimo box trovo un altro gazzlord vado in Giappone e gli dico ma che fate e gli dico